La Baleare Il villaggio Eden si trova sulla costa orientale, ricca di baie e spiagge, tra le più belle di Mallorca, a pochi chilometri dal piccolo porto naturale di Porto Cristo. Direttamente sulla tranquilla spiaggia di sabbia e di calamandia, il villaggio sorge in una posizione esclusiva, circondato da pini marittimi e arbusti selvatici. La struttura appartiene ad un complesso di hotel che ha ottenuto la prestigiosa Q, per la qualità riconosciuta dall'Istituto Spagnolo per la Qualità Turistica e che da sempre è considerato uno dei migliori dell'isola. Il complesso è costituito da quattro edifici, ognuno con propria piscina e snack bar. Il villaggio Eden si trova nella struttura D del complesso, pensato per offrire alle famiglie un soggiorno riposante e soddisfacente sotto ogni aspetto. È composto di 50 camere dotate di ogni comodità, tra cui 15 studio e 35 appartamenti con due camere da letto, sala da pranzo, cucinino, frigo, bagno, balcone o terrazza. Tutte le unità abitative sono rinnovate, dotate di aria condizionata, linea telefonica diretta, tv sat, cassetta di sicurezza. Per gli amanti della gastronomia sono a disposizione degli ospiti, e compresi nell'All Inclusive, un ristorante principale con chef italiano e servizio buffet, caffetteria e lounge bar. A pagamento, ristorante grill e pizzeria con servizio alla carta. Gli ospiti Eden possono decidere di usufruire del buffet sempre fresco allestito presso la propria struttura, o spostarsi nel ristorante principale situato nel complesso A. Sono inoltre dotati di una speciale carta magnetica, che consente loro di bere qualsiasi tipo di cocktail in qualsiasi edificio del villaggio. Gli ospiti Eden hanno libero accesso a tutte le strutture che compongono il villaggio. Mentre il complesso D non è accessibile agli altri clienti. Per gli amanti dello sport e del divertimento, quattro piscine con area riservata per bambini. Ombrelloni e sdraio a bordo piscina fino ad esaurimento. Telimare con deposito cauzionale. Spazi dedicati al fitness, campi sportivi, corsi di aerobica e acqua gym. Sono inoltre presenti i campi da golf nelle immediate vicinanze. L'equipe di animazione Eden propone programmi per adulti e ragazzi con attività sportive e tornei durante il giorno. E spettacoli serali. Mentre i più piccini si divertiranno con i giochi e i balli del miniclub curato da animatori specializzati. Gli altri servizi a pagamento sono a disposizione degli ospiti Internet Point, centro di assistenza medica, lavanderia, parrucchiere, saloni di bellezza, mini market, discoteca, sala per conferenze, babysitter. Eden Viaggi augura a tutti un'ottima permanenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.